Dio Nino De Santis, un eroe montefrancano. Montefranco, dicembre 2023. Ragazzi, oggi vi parlerò di Dio Nino De Santis. Maestro, ci racconti la sua storia? Certo, era il marzo del 1945 e i ragazzi con la mente fanno un salto indietro nel tempo. Marzo 1945. Mamma, ho deciso, parto. Vado al fronte. No, figlio mio caro, ripensaci. Stai attento, figlio mio. Vi amo. Addio. Durante il viaggio è un dolore andarmene da casa, ma è mio dovere difendere il paese. Pensare alla mia famiglia mi darà forza e coraggio. Eccomi al fronte. Fa freddo. Mi manca casa. Ho paura. Dio Nino fu colpito a morte a pochi giorni dall'arrivo. Sul fronte del segno cadeva il 14 marzo 1945 De Santis Dio Nino. Nell'oppressione, una vita offerta per conquistare la libertà, nella libertà un monito a saperla conservare nella democrazia. Dio Nino De Santis è stato l'unico soldato del nostro paese a morire al fronte. Siamo orgogliosi di lui.